La pandemia, nonostante qualche gufo, o c'è qualcuno che soffre di astinenza televisiva, perché adesso i virologi sono subentrati i generali, quindi magari c'è qualche virologo che soffre e quindi ci ha già annunciato che a settembre ci saranno decine di milioni di contagi, quando le do certe cose metto le mani sopra, sotto il tavolo, non so cosa fare perché è quello che serve proprio, è in un momento complicato, con una guerra in corso, con l'inflazione galoppante, avere qualche bella provvisione di sciagura e di sveltura generalizzata è quello che serve all'umore, alle famiglie. D'altronde noi più che aver fatto la prima dose, la seconda dose, la terza dose, la quarta dose, la quinta dose, gli italiani hanno fatto quello che si è chiesto loro di fare, poi analizzeremo a valle se quello che si è chiesto loro di fare era giusto, era sufficiente, era sbagliato, era controproducente, però una cosa alla volta.